Come investire nell'era del confronto tra Stati Uniti e Cina? Bentornati a casa Sanremo Investi, io sono Davide Marciano di Affari Miei e nel tempo che passeremo insieme cercheremo di capire come approcciarsi ai mercati finanziari in questa fase storica molto concitata, nel corso della quale sta emergendo sempre più un confronto muscolare tra Stati Uniti e Cina. Lo faremo con un ospite di eccezione che presenterò subito dopo la sigla, cioè Fabio Scacciavillani, economista e fondatore del canale Inglorius Globusters che tra l'altro consiglio a tutte le persone che poi ci guarderanno in rete di consultare perché è veramente molto interessante su questi temi. Quindi per tutti quelli che nutrono un interesse rispetto a questo argomento, per tutte le persone che vogliono investire sui mercati finanziari e ovviamente vogliono sapere dove sta andando il mondo e come si evolverà nei prossimi anni direi che abbiamo tutti gli elementi per passare insieme i prossimi minuti e possiamo cominciare subito dopo la sigla. Ciao Fabio e benvenuto a Casa Sanremo Invest. Grazie dell'invito, è sempre un piacere e un onore essere qui con voi. L'onore è mio averti qui. Io comincerei subito questa nostra chiacchierata partendo da quello che è un po' il tema più importante che riguarda il confronto tra Stati Uniti e Cina. La Cina negli ultimi anni ha fatto capire che la battaglia con il mondo occidentale la vuole combattere soprattutto sul piano tecnologico, infatti sono in aumento il deposito di brevetti e di progetti innovativi che ci sono appunto in Cina. Gli Stati Uniti dal canto loro sembrano voler giocare sullo stesso terreno perché recentemente hanno cominciato a limitare l'exporto soprattutto delle tecnologie più avanzate. Ecco, questa corsa verso la tecnologia, non ti sembra un po' la corsa allo spazio che sicuramente ricorderai meglio di me quando c'era il confronto tra Urs? Sì, esattamente. Cioè, non c'è stato il momento Sputnik, no? Quello che la mia generazione, insomma, noi eravamo bambini, ma quando la Russia lanciò il primo satellite in orbita per gli Stati Uniti fu uno shock perché si resero conto o quantomeno pensarono di essere indietro nella corsa allo spazio e quindi nella frontiera tecnologica. non c'è stato un momento Sputnik analogo per quanto questo pallone che ha sorvolato praticamente metà continente nordamericano dall'Alaska alla Carolina del Sud per l'opinione pubblica americana è stato un risveglio brusco e la Cina sotto Xi Jinping quindi da oltre dieci anni ha lanciato una sfida per la supremazia all'America e lo dice esplicitamente la nomenclatura, il vertice del partito comunista cinese nell'era Xi Jinping dichiara di voler essere la potenza dominante nel giro di dieci, quindici anni ha lanciato dei programmi China 2025 e altri programmi che puntano proprio in quella direzione e quindi l'America si è un po' svegliata da questa illusione ingenua che la Cina entrando nell'economia di mercato, nell'economia globalizzata in qualche modo sarebbe evoluta verso qualcosa di simile alla Corea qualcosa di simile al Giappone cioè un paese asiatico che però abbracciava i valori occidentali e partecipava a questa economia globalizzata interiorizzando e accettando le regole dei paesi sviluppati, dei paesi oxe per capirci anche la Corea quando entrò nell'economia capitalistica era un paese autoritario, era una dittatura con forti connotazioni militari insomma di autoritarismo militare poi è evoluta in una democrazia compiuta e quindi questa illusione la rottura di questa illusione americana ma un po' di tutto il mondo occidentale della Germania, della Francia in parte del Giappone eccetera eccetera ha fatto sì che in America prima con Trump e ora con Biden si intensificassero le misure non solo per contenere la Cina ma proprio per impedirle di continuare questa sua corsa Trump ha buttato un po' di sabbia negli ingranaggi con i dazi ma non ha avuto effetti dirompenti perché se andiamo a guardare i dati dal 2016 al 2021 le esportazioni cinesi in America più o meno sono rimaste sono salite a 356 miliardi di dollari contro 346 insomma in 5 anni più o meno sono rimasti stati quello che sta cambiando veramente le regole del gioco è il provvedimento dell'amministrazione Biden di proibire la vendita di chip di micro chip di semiconduttori avanzati alla Cina e di impedire la vendita di attrezzature per produrre questi micro chip avanzati che significa questo? Significa che la Cina viene mutilata nelle sue prospettive di sviluppo perché i micro chip sono la base di tutto anche la guerra fredda con l'Unione Sovietica è stata persa dai sovietici perché non avevano i semiconduttori avanzati stiamo parlando degli anni 70 e 80 quelli della Texas Instruments per chi ricorda la mia generazione ricorda le calcolatrici che usavamo al liceo e che cosa significa? Significa che i micro chip più potenti sono quelli che si utilizzano per intelligenza artificiale economia dello spazio robotica e qua siamo solo in ambito civile in ambito militare le prossime guerre si combatteranno con i droni e che significa questo? Significa che dai satelliti bisogna raccogliere le informazioni che passano in velocità ai sistemi d'arma e i sistemi d'arma vanno a colpire il nemico questo a velocità impensabile oggi quindi si scontreranno eserciti basati sull'intelligenza artificiale l'esercito diciamo le forze armate il sistema di difesa il sistema militare che avrà i chip più veloci vincerà vincerà sarà come i conquistadores di Cortez contro gli indios in Sud America hai detto una parolina magica tra l'altro che era poi l'oggetto diciamo della seconda domanda che volevo farti ed è un po' il light motive anche di questa settimana qui a casa saremo in Vest intelligenza artificiale ovviamente se il confronto è tecnologico probabilmente sarà questo uno dei terreni dove questo confronto si manifesterà in maniera più importante dal tuo punto di vista adesso chi è più avanti? Allora l'intelligenza artificiale si compone di due elementi il software quindi l'analisi dei dati e i dati stessi fino a poco tempo fa era avanti la Cina perché? perché la Cina ha raccolto molti più dati se voi andate in Cina vi accorgerete di essere seguiti più o meno ovunque perché hanno dei sistemi di riconoscimento facciale collegati alle telecamere che stanno in tutte le strade raccolgono i dati della popolazione quando fa spese con WeChat raccolgono i dati della popolazione quando mettono contenuti su TikTok e quindi tutti questi dati sono centralizzati perché l'economia cinese il sistema cinese è un sistema centralizzato quindi la messe di dati a disposizione dei sistemi di intelligenza artificiale in Cina è di gran lunga superiore a quella a disposizione dei loro delle loro controparti in Occidente anche le macchine elettriche le macchine elettriche controllano dove va chi le guida diciamo che loro sotto questo punto di vista sono abbandaggiati perché non dovendo rendere conto ad un'opinione pubblica dov'è che stiamo colmando il gap con chat GPT perché che cosa abbiamo milioni centinaia di milioni di persone che adesso stanno allenando i sistemi di intelligenza artificiale occidentali su una messa di dati non solo raccolti passivamente ma anche attivamente cioè in un scambio costante con esseri umani quindi stiamo facendo questo salto di qualità e avendo i microprocessori più performanti saremo in grado di in virgolette battere la concorrenza cinese che peraltro è una concorrenza che è stata resa possibile da giganteschi furti di proprietà intellettuale perpetrati dalla Cina documentati se non avete avuto mai contezza di questi episodi andate a vedere operazione Cucco B si tratta di trilioni di dollari di proprietà del valore della proprietà intellettuale raccolti in singolo episodio ovviamente che si è dipanato per parecchi anni ma insomma una singola operazione di spionaggio hackeraggio chiamatela come volete ai danni di una pluralità di aziende e istituzioni università centri di ricerca occidentale che praticamente è stato un modo per colmare in pochi anni un gap di decenni tra Cina e mondo occidentale ecco perché Xi Jinping si mostra così sicuro di sé e a proposito proprio di Xi Jinping tra l'altro purtroppo il prossimo 24 febbraio ricorre l'anniversario dello scopo del conflitto in Ucraina e il conflitto in Ucraina ci ha purtroppo insegnato che le guerre esistono è una delle guerre adesso potenziali che spaventa di più il mondo intero ovviamente e la frizione che c'è su Taiwan perché Xi Jinping ha detto in più di un'occasione di voler riannettere sostanzialmente l'isola gli Stati Uniti almeno a parole non sembrano disposti a concederglielo così facilmente l'ultima cosa che ti chiederei è proprio legata a questa secondo te posto che Putin ci ha insegnato che la razionalità non sempre almeno dal nostro punto di vista è un qualche cosa di primario nelle decisioni politiche dal tuo punto di vista arriverà davvero questo attacco da parte della Cina nel medio termine mettiamola così oppure non ci sono ancora le condizioni per un attacco così direi diretto poi all'Occidente allora partiamo dai dati e poi su questi dati formulo diciamo il mio giudizio la mia opinione allora il dato è che prima dell'invasione dell'Ucraina c'era in America un forte dibattito sulla necessità di intervenire a sostegno di Taiwan in caso di attacco e molti dicevano ma non ne vale la pena perché non è una minaccia esistenziale per gli Stati Uniti andare a combattere una guerra a decine di migliaia di chilometri dalle nostre basi non è saggio se il conflitto si prolunga ovviamente i cinesi hanno un vantaggio perché sono a 100 chilometri da Taiwan e noi a diverse migliaia quindi alla fine della giornata a un torto collo dovremmo abbandonare adesso questo dibattito è semplicemente stato accantonato e la decisione strategica di intervenire a favore a supporto di Taiwan in caso di attacco è stata di fatto presa fino a poco tempo fa i modelli di simulazione quelli si chiamano i war games davano quasi sempre vincente la Cina da qualche mese danno vincente gli Stati Uniti o meglio la coalizione occidentale perché perché si sta riarmando il Giappone perché l'Australia sta comprando i sottomarini perché la Corea ha fatto ha preso la decisione di andare con il fronte occidentale prima non si sapeva perché comunque l'economia coreana dipende molto da cinese la determinazione con cui gli Stati Uniti intendono perseguire l'obiettivo di difendere Taiwan è entrata di prepotenza in queste simulazioni e in più c'è tutta la questione tecnologica cioè con la guerra in Ucraina si è capito che non è più così fondamentale avere boots on the ground cioè avere una armata di parecchie centinaia di migliaia di soldati o addirittura di milioni di soldati è il vantaggio tecnologico quello che decide le sorti sul campo e oggi il vantaggio tecnologico ancora di più se lo proiettiamo in vista di questi blocchi di esportazioni questo embargo di tecnologie avanzate verso la Cina il fattore tecnologico pesa in modo preponderante verso l'Occidente quindi da questo punto di vista io direi che Xi Jinping dovrà prendere atto della realtà e ritornare allo status quo ante che è quello di tollerare Taiwan finché non si trova una qualche forma di accordo amichevole chiamiamolo così e lo stiamo già vedendo negli ultimi mesi la retorica non dico bellicista ma insomma un po' oltransista un po' guascona di Xi Jinping si è attenuata adesso è tutto un fiorire di iniziative di intese cordiali con l'Australia di riavvicinamento al Giappone di collaborazione con la Corea eccetera eccetera perché secondo me l'esperienza dell'Ucraina e la batosta dell'embargo sui microchip ha ottenuto effetti che una leadership come quella cinese non è una leadership di politicanti di provincia la leadership cinese sono ingegneri e gente che comunque per arrivare ai vertici del potere ha dovuto dimostrare delle competenze che spesso noi in Occidente non possiamo riscontrare nei nostri governanti noi con questo non possiamo che sperare ovviamente che le cose vadano in questo senso ovviamente sia perché siamo tutti contrari alla guerra sia perché ovviamente la guerra questo lo sanno anche i cinesi non sempre fa bene agli affari e noi che siamo interessati soprattutto alla parte diciamo economica di poi tutto quello che accade nel mondo siamo più tifosi degli scambi che delle frizioni io con questo Fabio ti ringrazio per essere intervenuto qui a casa saremo invest ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito in diretta e quelle che ci seguiranno successivamente io do a tutti appuntamento per i prossimi talk e vi saluto a presto ciao e guardate in glorious glow bastards